Io sono Andrea Ghirotti e faccio parte del gruppo ricerca e sviluppo Interemerse. Il lavoro della ricerca e sviluppo è a 360 gradi. Una delle principali attività svolte riguarda la sperimentazione di formulati per la difesa, il diserbo e la nutrizione. Inoltre negli ultimi anni in particolare si sta svolgendo un importante lavoro di messa a punto e implementazione di servizi per l'agricoltura di precisione. I risultati ottenuti dalla sperimentazione in campo ci consentono di individuare i prodotti più performanti e di andare a mettere a punto linee tecniche in grado di soddisfare le esigenze dell'azienda agricola. Tutto il lavoro di sperimentazione svolto a monte trova poi riscontro e soddisfazione nella collaborazione con le più importanti realtà produttive del territorio come ad esempio la cab di Campiano. Per l'assistenza tecnica nelle grandi aziende si parte da una programmazione che viene fatta in fase invernale prima dell'inizio della stagione, fine di lavorare in maniera più agevole durante appunto il corso della stagione e prosegue poi durante i cicli culturali con l'assistenza tecnica in campo nei diversi settori e si chiude alla fine con la raccolta di dati produttivi che ci consentono appunto di andare a capire i punti di miglioramento e implementare nuove strategie per l'anno successivo.